Documenti e relazioni sulla vita contadina nel basso medioevo al centro dell'incontro a Palazzo Lascaris su migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne basso medievali, dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna. Il convegno, ospitato poi dall'Ateneo Torinese e dal CISIM a Cherasco, è stato promosso dall'Università di Torino con il patrocinio del Consiglio regionale e l'Associazione dei Consiglieri.